siamo qua al backstage ragazzi mi raccomando è una figata oggi c'è richmond una bomba qua molto selvaggio oggi infatti ho due smanica è un brand molto bello comunque molto selvaggio molto rispetto agli altri molto progressivo sarò impegnata come sempre sarò qua da richmond ho fatto pure lo cucinale ieri ci sarà ci sarà armani come al solito emporio ermano cervino bicham e ho viaggiato tanto tanto sono stato tra new york parigi e milano per poi tornare qua per la fashion week e ripartire di nuovo ancora l'estate penso che andrò dalla mia zia prima andrò a trovare mio nonno e poi andrò alla mia zia che mi manca una cifra è zia mia zia vi porto nella parte più interna più particolare make up e capelli diamo insieme come al solito aldo coppola è top in tutte le cose questo è quello che ci tocca fare ogni sfilata grandissimi aldo coppola numeri 1 in italia e sto giro ecco lì ecco lì eccomi qua lei è alessandra è la proprietaria del brand e la ringrazio ancora oggi per questa possibilità perché è una persona stupenda veramente stupenda grazie 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 un bacio da me e da alessandra mua 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 Grazie a tutti.